Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo su Overwatch, sempre in compagnia del buon Lawrence. Oggi vi porto una normale partita dal mio punto di vista con Mercy nel quale ho curato senza troppa fatica il mio gruppo, però l'Arens ha fatto le magie e quindi per portare onore al tank che è in lui ho deciso di caricare questa partita anche se io effettivamente non ho fatto nulla di particolare. Guardatevi come un tank dovrebbe funzionare. E se vuoi simmetra dovesti prenderla al volo? Non ho potuto. Però Pistorius non è che mi ispiri molto da avercelo conto. Perché? Ti ricordi il caso Pistorius? No, non me lo ricordo. Era un atleta parolimpico, di quelli che corrono senza le gambe, no? Che praticamente ha ammazzato la fidanzata con un sacco di canne mozze quando lei stava facendo la doccia. Fantastico, gli voleva bene. E lui inizialmente disse che era per contrastare un ladro, che era entrato in casa, lui si era confuso e che ha sparato. Peccato che lei fosse dentro la doccia, cioè... Sì, dici, un ladro nella doccia, eh. E sai quella è la cosa divertente? Dimmi. Che l'hanno scaggiata. Gli ha creduto, beh, giustamente. No, inizialmente no, non gli ha creduto, però ha trovato una vera di scappatella e è riuscito ad uscire. Esatto. Io sinceramente spero che la famiglia di Dai vittano dei provvedimenti. Eh, ma quanto tempo fa è caduta sta cosa, scusa? Due anni fa. C'è un Dunfist in alto, ma perché tutti i Dunfist? È stato Pippa fino a un secondo fa. Dunfist! È passato dietro! Non è niente. Sì, in me, tra il teleparco. Mi piace come vi siete divisi tutti e nessuno più, cagava nessun altro. Teleparco attivato. Pronti a muoversi. Cioè, io lo do al portovano. No, tu eri morto. Come sono, come sei morto, tu si sono divisi tutti e non so più come curare la gente perché erano tutti a destra, manca. E là, là, cosa mi ha sciottato? Scusami. Ah. Boh, non lo so nemmeno io cosa mi ha sciottato. Non so neanche lui se mi ha sciottato o meno. Ma io quando sono arrivato ho visto che ti ha tirato la fiammata di Reinhardt. No, ma ho ucciso Jankra. Però, che sciotti così. Ho ucciso Jankra. Sparando palle a caso che probabilmente sono rimbalzate insieme alla fiammata di Reinhardt e... Boh. Misteri. Però non si sta qui quando si difende sto punto, ragazzi. Si sta qui indietro. C'è già Dunfist lì dal balcone. Ahia, che Dolors. Dunfisto. Sente. Niente c'era, no. Sono spinto via. Veroci, veloci. Ma porca vacana. Uccideteli. No, non ce la fai. Andate. Grazie. Ma dove ho fatto benissimo a riportarlo, allora? Bravo. Oh, mamma mia. Sì, però ho conquistato un sacco, noi non ce la faremo mai. E ancora quattro minuti. Te prego, grazie a te. Grazie. Grazie a te, guarda. Non esisteremo mai quattro minuti. Non è niente. no, non è niente. No, non esisteremo mai quattro minuti. Non è ancora il tuo momento. Non è ancora il tuo momento. Ah! Sì MENDEET! Vado via. È morta! Sìììì! Prima mi ha ucciso quella lì. C'è un donfi installato! Dov'è? Dov'è? C'è un Reinhard davanti! Perché non ho una visione periferica in questo videogame? Sarebbe tanto comoda. Io non posso venire! Lì muoio! Ma davvero Reinhard pensi di caricare? Vado ogni volta ci provo! Aiuto! Grazie! Come l'ho preso! Mi è caduto malissimo, poverino! Ci ha picchiato un po' anche il muso, secondo me! E gli sta bene per avere un soprannome indecento! Il contatto ostile! Le tue prestazioni sono ai nostri per io! E adesso con qui start del tutto! Guarda che io me ne vado via farà! Ci sto pochissimo qui eh! Mi stanno attaccando! Cioè quello affare là, continua ad andare avanti e morire! Cioè cosa pretende? Che la segua? Io vado a morire pure io se la seguo! Non ti preoccupare! Non ti preoccupare! Non ti preoccupare! Se il mio scudo sta su è già qualcosa! Bella eh questa skin per l'amor di viola! Amo alla follia però le musichette da cupido che cacchio mi danno un fastidio! Cioè non posso curare e sentire sotto le arpette la musica ediliaca! Ma dai! Fastidiosissimo sta cosa! Quanto smieloso! Quanto diabete mi viene! Ora dunfista! Fa' attenzione! Grazie! Non funziona la carta! Eh ma l'ho ucciso! L'ho ucciso o muore! Bravo! Ma la nostra moira sta curando! Anche per sbarlo! Beh che era morta! È stata un'idea del cacchio! Arrivo, 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 arrivo! Se ti sparassi ed è caduta giù io non ci credo! Cioè se ti curava a te mentre tu sparavi! A 14 secondi dalla fine! Cioè! Oh beh! Io non vorrei di una cattiveria ma sono morta io non ho la te più di cure! Ma è sempre così! Cioè infatti se uno dei tuoi leader muore leader è la fine! Seleziona il tuo eroe! Tu cosa vuoi fare qua? Prenderei omersi o muore! Però dovete spingere! Devo prendere la brighetta! Cosa spingo questo gruppo? Perché qui... Boh! Diva è il numero che spinge tanto! Che può andare oltre! Beh... Non lo so! Può andare oltre ma ti devono seguire perché se sei da solo Diva non fai un tubo! Dai! Tengo risa! Provo a fare i passettini! Vediamo che succede! Non so neanche io se tenere mer... Perché... L'altra non cura! Se no prendevo Brigitte che sicuramente con la sua ultra si spingeva meglio! Guarda quel deficiente! Quel deficiente lì si era morto 60 volte! Andando nello spawn avversario facendosi uccidere perché era da solo! Un cretino! Volevi che ti curassi è questo il problema! Ok ma io non ci vengo ad uccidere e a morire con te nello spawn nemico! Testa di puffo! Chi era il russo? Farah! Ah ok il russo! Maledetto ruschi! Esattamente! E maledetta Moira! Sì madonna! 14 secondi della fine va che bruttissima! Se avessi sparato lo suo raggio su di te e ti avessi tenuto su... Intanto faceva danni a tutti quelli che c'erano tra te e di lei che era tipo tutta la squadra avversaria! In più ti avrebbe curato! Pensa un po'! Contatto con il nemico! Quanto danno stai prendendo? C'è un bastion? Sì in detreccio! L'ho sentito! Grazie! Prego! Uccido bastion! Preso! Eliminato! Ma che culo! Proseguo! Porto avanti! Vai vai! Vado! Dietro mi sparicchiano! Forse no! Ancora gente? No no no! Passo la barriera! Correre! Questa è il gioco! Non si può perdere! Iniziate l'assalto! Hep, op! Hep, op! Forza! Un 2! Un 2! Durano solo 14 secondi! Se noi riusciamo ad avere 6 minuti! Ma dai! Lo dubito fortissimo! Però dai proviamoci! Allora la priorità è Baffin che l'ha infelto! Baffin si è fregato di morire! Si ripara l'infamone! Io ho la ultre! Ciao Widowmaker! cacchio io non posso usare l'ultra potenzio dai 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 madonna ha fatto l'ultra dietro lanterna mamma mia mamma mia siii provo la res fatica è la prima volta che spingo su sta mappa con orisa allora loro hanno un minuto noi ne abbiamo sei quindi io devo stare molto attenta verso la fine perché prima ho sbagliato sono morta un paio di volte perché mi sono buttata sull'obiettivo presa dal panico credo di essere da sola invece se stavo qua dietro era meglio no ma sai cos'è è stato forte perché magari ho lanciato l'ultra io ho fatto la mia qua qua dietro come t'ho visto e ho visto come t'ho visto mettere giù l'ultra ho attivato anche la mia e mi ha lanciato dosso tutto tipo poi anche fare la barriera passo per passo su questo giardinetto è stato orribile c'è mettere passo e barriera passo e barriera questo qui mi ha rotto le balle questo signorino qui mi ha rotto le balle però perché mi stalkerà è perché è innamorato io vivo per combattere probabilmente che barbarie fatto ok un minuto dobbiamo tenerli eh vai io però da lì mi levo perché mi arriverà sicuramente qualcosa addosso e ti metti dentro la casetta così è ben lì che è da lì che mi levo perché non ho via di fuga nella casetta almeno qua fuori spazio di manovra chi è quello la vieni chi è quello la vieni un secondo ok non riesco a buttare giù moia indietro oddio arriva uno ok una merce è andata io li ritengo qua eh si perché non ci riesco a cacchierarla ti riblocco voi tenete bravi uff oh vado al rimontone l'ha rimontata è fatta io sto soffrendo lo sai ma se sei un cannone cosa devi soffrire hai fatto delle aperture fichissime più che delle aperture hai fatto il muro ambulante cioè hai preso la tua barriera e l'hai spinta avanti con le mani tipo adesso di nuovo bisogna farlo io odio tancare colorisa su sta mappa è orribile però funziona vedi ma perché non posso usare tutti dietro la barriera l'hai spinta fortissimo bravo bravo ma dammi secondo me dammi 300 punti vita in più vedi eh grazie dammi 8 milioni di punti in vita in più e vedi che sfondi tutti per forza però con orisa si sarà più fastidioso perché devi aspettare che si ricarica metterla più avanti aspettare che si ricarica metterla più avanti però almeno non sei così indifeso grazie sei minuti non ti serve niente far sta roba in sei minuti anzi sette quasi questo dovevi farlo serviamo un minuto si aspetta però a cantare vittoria certo no io aspetto però non serve niente farci perdere 10 secondi indietreggiate vi spingo indietro cacchio il problema qui è Mei in questo momento si però io sai cosa faccio sei chiuso di là sei chiuso di là no non sei si sei di là sono qua davanti eh ma c'era il muro tra me e te non riuscivo a curarti li sto spingendo più che altro un po' il raggetto mi hai chiuso fuori non posso curarvi che si tornano ti serviva un dottore mi hai portato tu sei ti voi tu xd corro la mia barriera è ancora su usatela ok esaurito arrivo 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 andiamo quasi la ultra ok metto barriera qua in mezzo vi siamo portati da un lato vai alla ultra no la fatica vabbè intanto lo meritavi solo tu grazie se McCree ci ha fatto un salvataggione e infatti quello che l'ho tirato su io sicuro se non c'era questa ultra eravamo facciati bravo McCree 31.989 come vi dicevo Lawrence è stato un ottimo tank in questa partita ha spinto ha portato il gruppo sul punto in pochissimo tempo spingendo la barriera di Orisa come fosse Reinhardt e con l'altra mano sparando fortissimo ai nemici è stato veramente grazie a lui se siamo riusciti ad arrivare al punto tra virgolette incolumi e a conquistare così in fretta per poi permetterci di avere più tempo per gestire il tutto io come sempre vi ricordo che in descrizione troverete il link per il canale di Lawrence fateci un salto ed iscrivetevi al suo e al mio se non l'avete già fatto lasciatemi un like, un commento e come sempre vi auguro una buona giornata un saluto a tutti